ciao ragazzi siamo con diego e abbiamo appena trovato dei bellissimi esemplari di testa nera guardate che che roba guardate come si presentano tosti eh tosti forti ma sono difficili da soglia il gambo è consistente direi che dai belli ci possiamo lamentare non ci possiamo senti come suona questo è il suono della felicità che hai trovato diego guarda guarda che uncino oddio bello livio che hai trovato anche il fratellino bello bello e castagno sono bellissimi fermo tra le felci cioè sulle felci erano anni che non ci ritrovavo veramente strano felci e con un altro sempre sotto le felci guardate che carino bello tipo la caffettiera che viene fuori tipo la caffettiera però assomiglia più alle fuso del gatto però in maniera più aggressiva quindi in cinghiale non era potrebbe essere un tasso una volta siamo in stagione amore che piccolino guarda c'è quattro diti le dita poi tutto intorno vabbè dai e poi avanza avanza dai si può si può dai questo lo prendiamo carino queste stivalis è proprio da foto guardate che spettacolo duro è sì perfetto guardate bello sotto cioè ragazzi appena l'ho visto fatto come l'antonella come fa l'antonella che padella diciamo per maggio è una bella padella anche se è un po' avanzata eh sì questo lo dedico a Stefano ciao Stefano guarda che bella padella sotto il castagno sotto il castagno c'è un porcio con l'antea l'ha visto lei e io non l'ho visto guarda che bella anche questo oh sono tutti belli questi qua eh uova col gambo che fa l'uncino capitano uncino aspetta che c'è un insetto un belci raptor come nel film di jurassic park con tutte queste belci un messaggio per il capitano cap guarda guarda cosa ho qui guarda cosa c'è e dimmi cosa ne pensi questo lo dedico al capitano guarda bello e anche la raccolta di oggi è terminata se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e lasciate un bel like mi raccomando attivate la campanella per non perdere le raccolte dei prossimi giorni ciao